Riproduciamo di seguito l'audio articolo di Ascolta la notizia intitolato, Ministro degli Esteri Ucraino da Fazio, siamo dalla parte giusta della storia, come lo è stata la resistenza italiana. Sono convinto che un giorno in Ucraina ci sarà una festa nazionale per la vittoria contro i nazisti, come è accaduto in Europa. Noi siamo dalla parte giusta della storia, come lo è stata la resistenza italiana. Lo ha detto il Ministro degli Esteri Ucraino, Dimaitro Kuleba, a che tempo che fa surai 3. La Russia ha mandato due proposte. Alcuni missili sono arrivati a Odessa e sono morte alcune persone. Oggi un'altra proposta, altri cinque missili nell'Ucraina centrale. Questo è l'approccio russo alla tregua. Siamo veramente sofferenti per tutti questi crimini in Ucraina, per la guerra avviata contro il nostro paese. Nonostante la sofferenza vogliamo continuare le trattative, noi vogliamo la pace. Ma una delle due parti vuole la guerra. Il nostro desiderio di pace da solo non è sufficiente. Noi siamo disponibili alle trattative se lo è anche la Russia. Ma l'uccisione dei civili chiude le trattative, ha anche detto Kuleba.